allora con la matita ben temperata e un foglio sulla tavoletta appoggiata in grembo e al tavolo comincia a tracciare da sinistra a destra una linea orizzontale tieni la matita con la punta distante dalla presa puoi appoggiare il mignolo al foglio per avere un segno più sicuro non ti preoccupare dell'insicurezza del segno questo esercizio serve proprio a darti sicurezza ma ci vuole tempo traccia un'altra linea sempre da sinistra il più vicino possibile alla prima cerca di evitare che si tocchino e poi continua così una linea dopo l'altra se vuoi puoi alternare tracciando linee da sinistra a destra e da destra a sinistra grazie a tutti prova anche ad usare la penna a tiro buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti